Lettori elettrici, bentornati sul mio canale! Io sono Xadis5 e questo è un Leggo per voi! Saluto tutti quanti gli iscritti, vecchi e nuovi, e spero di non deludervi. Nel caso non lo sapeste, questa è la seconda puntata della rubrica Leggo per voi, nella quale vi leggerò Curarsi coi libri. Curarsi coi libri, rimedi letterali per ogni malanno. A Karl Hach e in memoria di Marguerite Berthoud e David Helderkin che ci hanno insegnato ad amare i libri e a costruire gli scaffali. Introduzione Biblioterapia Ramo della medicina che cura certi disturbi dell'esistenza con la somministrazione di opere di narrativa. Per Thoud e Edderkin 2012 Questo libro è un manuale di medicina, con qualche differenza. Prima di tutto non discrimina tra i dolori del corpo e i dolori del cuore. In queste pagine si potrà trovare la cura per un cuore spezzato come per una gamba rotta, o una consolazione per certe situazioni difficili nelle quali potreste trovarvi come traslocare, perdere l'aereo o vivere una crisi di mezz'età. Non mancano le peggiori sfide della vita, come la perdita di una persona cara o il ritrovarsi, tutto a un tratto, a crescere un figlio da soli. Se avete il singhiozzo e i postumi di una sbornia, paura di impegnarvi o di avere perduto il senso dell'umorismo, anche questi per noi sono disturbi e meritano di essere curati. C'è un'altra differenza, tuttavia. I farmaci che prescriviamo non si trovano in farmacia quanto in libreria, in biblioteca oppure sul proprio lettore di ebook. Siamo biblioterapiste e i libri sono i nostri ferri del mestiere. La nostra farmacopea include balsami balzacchiani, lacce mostatici tostoiani, pomate di Saramago e purche di Perek e Proust. Per compilarla abbiamo spulciato duemila anni di letteratura in cerca di elementi più brillanti e delle letture più ricostituenti. Da Puleio, che nel secondo secolo scrisse L'asino d'oro, ai tonici contemporanei di Ali Smith e Jonathan Franzen. La biblioterapia è diffusa sotto forma dei libri di autoaiuto da alcuni decenni. Gli amanti della letteratura, tuttavia, utilizzano i romanzi come rimedio, più o meno consapevolmente, da secoli. La prossima volta che sentite il bisogno di tirarvi su, o vi serve una mano per sbrogliare la matassa emotiva, ricorrete a un romanzo. La nostra fiducia nell'efficacia della narrativa, come la forma migliore e più dura di biblioterapia, si basa sulla nostra esperienza con pazienti, ed è corroborata da una valanga di aneddoti. A volte è la storia che affascina, a volte è il ritmo della prosa che lavora sulla psiche, calmandola o stimolandola. A volte è un pensiero o un atteggiamento suggerite da un personaggio che si trova invischiato in un dilemma simile. In qualsiasi caso, i romanzi hanno il potere di trasportarci in un'altra esistenza e farci guardare il mondo da un altro punto di vista. Quando siamo immersi in una storia e non riusciamo a staccarci dalla pagina, vediamo quello che un personaggio vede, tocchiamo quello che un personaggio tocca, impariamo quello che un personaggio impara. Possiamo credere di starcene seduti sul divano o nel salotto di casa, ma la parte più importante di noi, i nostri pensieri, i nostri sensi, il nostro spirito, è altrove. Leggere uno scrittore, per me, non è solo avere un'idea di quello che dice, ma anche partire con lui e viaggiare in sua compagnia, dice André Gide. Nessuno torna da un simile viaggio come la stessa persona. Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice, un romanzo, o più di uno, da leggere a intervalli regolari. Alcuni trattamenti porteranno a una completa guarigione, altri invece vi porteranno semplicemente conforto, dimostrandovi che non siete soli. Ma tutti, alla fine, offriranno un temporaneo sollievo dai sintomi, grazie al potere di distrarre e trasportare dalla letteratura. A volte il rimedio è più efficace se assunto come audiolibro, o letto a voce altra con una persona amica. Come ogni medicina, il trattamento deve essere sempre concluso, per ottenere i migliori risultati. Oltre alle cure, offriamo consulenza su particolari disturbi della lettura, come l'essere troppo occupati per leggere, oppure cosa leggere quando non si riesce a dormire, i migliori libri da leggere per ogni decennio di vita, e i libri migliori per ciascun rito di passaggio, oltre a quelli, ovviamente, da leggere sul letto di morte. Vi auguriamo ogni felicità con le nostre ingessature e i nostri cataplasmi letterari. Grazie a loro sarete più sani e più saggi, e degli amici migliori. Vivere senza letteratura significa perdere l'occasione di vivere arricchendosi delle lezioni di coloro che hanno percorso questa via prima di noi. Come ha detto PJ O'Rourke, scegliete sempre un libro che vi faccia fare bella figura se passate a miglior vita prima di averlo finito. Quindi per ora è tutto, dalla prossima puntata vi leggerò tutti i vari sintomi e quindi i rimedi per quel sintomo, quindi iscrivetevi per non perdervi tutte le varie cure, mettete un bel mi piace, condividete sui vostri social network, e ricordate che leggere fa bene alla salute.